Un piccolo centro, poco più che un quartiere, quello di Persichello, ma tormentato ultimamente da atti vandalici ed episodi vagamente inquietanti per i risvolti che potrebbero avere. Solo una settimana fa, il muro del cimitero imbrattato con scritte volgari, gli autori un gruppo di ragazzini minorenni del quartiere ripresi dalle telecamere. Il muro è già stato ridipinto, la denuncia scattata, i danni pagati dai genitori, ma solo tre giorni dopo sulla stessa strada è stato appeso questo annuncio. Alcuni gatti sono scomparsi in modo un po' strano, i proprietari addolorati ovviamente per la perdita di quelli che definiscono membri della famiglia, ma soprattutto preoccupati per la modalità della scomparsa dei loro animali domestici. I casi non sembrano essere isolati, nell'ultimo periodo infatti i gatti spariti sembrano essere diversi e i proprietari lanciano un appello, chissà parli perché in paese c'è chissà ed è ora che la verità salti fuori, così come i colpevoli, chiunque essi siano.